Sbarcano al Teatro della Fortuna le scuole di danza Fanesi, che fino a pochi mesi fa chiedevano all'amministrazione comunale di poter ottenere un prezzo accessibile per i loro saggi di fine anno. Ora, grazie ad un accordo tra il Comune e la Fondazione Teatro, i ballerini potranno finalmente calcare il palcoscenico più importante della città. Mancava al Teatro della Fortuna la partecipazione delle scuole di danza, che a Fano sono una grande realtà, centinaia e centinaia di allievi e di allievi, e quindi si è concretizzata però un'operazione interessante, dati i tempi, perché il nostro teatro è un meraviglioso teatro, ha dei costi probabilmente, quindi qui c'è stato il consorzio e la partecipazione attiva della Fondazione Teatro, che io ringrazio molto, dello sponsor, l'Ordio di Babette, che interviene dando un esempio di partecipazione nuova agli eventi che si vogliono costruire, e con un apporto significativo ovviamente del Comune, che allevia, intervenendo di suo, i costi dell'affitto di una struttura, che ha dei costi inevitabilmente. Questo consorzio di intenti ha reso possibile un'operazione che per circa una settimana riempirà il teatro di giovani talenti, che sono sia i talenti del futuro, speriamo, ma anche il pubblico del futuro, colmando un tassello che era un pochino in defiance rispetto alla sinfonica, alla lirica, alla prosa, di cui il nostro teatro invece è molto ricco. Il Comune sosterrà il costo di 500 euro più i vassaggio, mentre le scuole dovranno farsi carico delle spese di pulizia, quelle per la SIAE, per le maschere e per i vigili del fuoco, e a dare il via alla rassegna sarà la scuola Capogiro Dance Theatre, sabato 13 giugno, seguirà il 23 e il 24 Vaganova Spazio Danza, poi Dance Academy Studio giovedì 25 chiuderà Chiara Danza il 27 con replica il 28 giugno. Sarà possibile acquistare i biglietti al bottighino del teatro anche il giorno stesso in cui andranno in scena gli spettacoli. Il progetto denominato Fanno in Danza, rassegna di danza, città della fortuna, è nato anche grazie ad uno sponsor privato che ha sostenuto e creduto nell'iniziativa. Come mai in questo momento di crisi economica un privato decide di aiutare in questo caso scuole di danza? Perché io credo che poter aiutare questi ragazzi a livello culturale sia molto importante perché i giovani di oggi appunto hanno questo vuoto culturale e riuscire a colmare questo vuoto culturale che comunque lo percepiamo tutti i giorni credo che sia molto importante perché questo per loro sarà comunque il vissuto di domani quindi riusciranno nel tempo ad avere esperienze comunque positive per riuscire poi ad andare avanti nel proseguo della vita quindi credo che sia molto importante anche noi a livello privato riuscire a formare questi ragazzi che poi saranno gli uomini di domani. Riuscire a formare gli uomini di domani